uè non fare il barbone da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xiodarone dai bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xiodar e ragazzi mamma mia oggi il video è veramente interessante perché parleremo a 360 gradi di tutto quello che è successo nelle ultime ore di fortnite e non parlo solamente delle modifiche del robot sono accadute anche cose particolari al di fuori dell'evento e ve le voglio proprio dire nel video di oggi infatti ragazzi sicuramente parleremo del tema della season numero 10 sono uscite delle righe anonime da parte di qualcuno che sembrerebbe essere dentro epic games con spoiler abbastanza importanti per la season che sta per arrivare ma parleremo anche ragazzi di un'altra notizia incredibile il bundle nuovo per ps4 e non sto parlando del neo versa quello che vi ho fatto vedere di quello di cui vi ho parlato ieri e l'altro ieri una cosa incredibile un glitch assurdo scoperto da alia che ora vi mostrerò e poi ragazzi se avremo tempo tfew trova lama non voglio dirvi niente lo tenete buon così tfew trova lama intanto ragazzi volevo ringraziare tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xuderone nello shop grazie di cuore ragazzi per sciopazzare di prepotenza con il mio codice mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima devo farvi la domandina raga mi rispondete sempre in tantissimi anche alla domanda di ieri una fucilata di commenti proprio qua sotto e la domanda di oggi ragazzi è molto particolare sempre però personale qual è il tuo veicolo preferito in assoluto e non parlo di quelli che sono presenti solo in questa season di tutti i veicoli che hai visto il carrello il quad il kart l'aereo il driftboard la palla qual è il tuo preferito in assoluto il mio ragazzi sono nostalgico il mio ragazzi è il quad è il kart perché semplice perché potevi andare in giro con tutto il team a fare il deficiente con il cad e tra l'altro io non so se qualcuno di voi ha avuto il piacere di provarlo ma ricordo che si giocava in 4 sul kart e in 3 portavano i palloncini ragazzi volavi col kart era un qualcosa di meraviglioso era un qualcosa di meraviglioso ditemi ragazzi qual è il vostro veicolo preferito qua sotto nei commenti ma quindi ciao ciao le bande e bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a vedere gli aggiornamenti che ci collegano a quello che vi stavo dicendo della season 10 questa intanto l'immagine nei file di gioco del braccio destro del robot l'avete visto tutti ieri mattina abbiamo fatto anche il video la cosa molto interessante oltre al braccio destro che è ovviamente visibile in game è questa immagine che mostra un robot praticamente quasi completo manca solamente la testa che tra l'altro vorrei dirvi non è nei file di gioco la testa del robot verrà inserita probabilmente martedì prossimo con la patch 9.4 finalmente dopo tre settimane di attesa e vi garantisco che è difficilissimo fare i video senza le patch notes che ci dicono le cose arriveranno tutti i file relativi al termine della season 9 all'evento e alla season numero 10 un'altra immagine meravigliosa la vediamo con un fronte retro del robot ragazzi che davvero prende forma ma quello che ci chiediamo tutti è quindi cosa succederà con questo robot intanto ragazzi un'immagine che volevo farvi vedere anzi rivedere è questa ve la ricordate questa è presente nei file di gioco e sappiamo è un'immagine relativa all'evento che sta per accadere vi avevo detto che doveva essere un countdown olografico ma sembrerebbe che forse non sia così potrebbe essere in realtà l'immagine di anteprima di una LTM non annunciata che verrà inserita in game senza dire nulla ufficialmente parlo in relazione all'evento ne voglio parlare un po' meglio queste sono una spiata fialla di righe in inglese che adesso vi vado a tradurre e che spiegano in poche parole sembrano arrivare direttamente dall'interno di Epic Games l'evento che stiamo aspettando per gli ultimi giorni di questa season in realtà arriverà come dicono loro dopo le World Cup quindi dovrebbe arrivare dopo il 27-28 luglio quindi mancherebbero tre giorni all'inizio della season 10 e quando finirà anche l'evento del compleanno o comunque quello che ci sarà connesso sicuramente faranno qualcosa dal 24 luglio giorno del compleanno questa LTM dicono verrà rilasciata 30 minuti prima che finisca ufficialmente la season e verrà mostrato questo countdown che sembra essere come dire animato anche in lobby cioè c'è scritto prepare to victory royale ed è molto strana come cosa cosa succederà ragazzi praticamente ve lo spiego senza stare a tradurvelo parola per parola che siamo un po' più sbrigativi ci sarà l'evento del robot ok cioè Fortnite ha i giocatori di Fortnite hanno buildato il robot gigante per combattere il mostro nel mare il mostro uscirà dal mare e si pensa si pensa che la parte nord ovest della mappa quella da dove è entrato verrà sommersa quindi il ghiaccio non ci sarà più da lì si vedrà il robot che verrà scagliato contro questo mostro ma il mostro in realtà sarà talmente grande che non sarà sufficiente il robot quindi il mostro distruggerà il robot e gli sforzi per costruirlo saranno quindi stati vani da lì ragazzi partirà questa LTM dove nella parte alta dove abbiamo le coordinate ci sarà una mega barra della salute del mostro e si parla veramente di un numero assurdo di punti vita e tutti i drop e i chest daranno solo armi leggendarie e sembrerebbe solo RPG con colpi infiniti e AR che in realtà sarebbero gli scar d'oro loro li chiamano AR ma in realtà è lo scar dovremmo in qualche modo cominciare a dittare il mostro che girerà per la mappa intorno alla mappa fino a quando la sua salute non arriverà a zero e quindi si potrà dire conclusa la season 9 questi ragazzi sono dovete prenderli momentaneamente come un leak perché non è ovviamente ufficiale e non è scritto da nessuna parte ma sono strettamente collegate sembrerebbe a qualcuno dentro ad Epic Games e si chiude questa questa spatafiala di discorso dicendo quando il downtime finirà si succederà che ci sarà davvero lui dice la fine di tutto nella season 9 e probabilmente nella season 10 la mappa che vedremo potrebbe essere di nuovo questa io non credo qua sinceramente sarebbe davvero assurdo questa per chi non la conosce è la mappa della season 1 quindi ragazzi staremo a vedere ci tenevo ad aggiornarvi perché è veramente super interessante abbiamo fatto tardissimo quindi velocemente questa è la skin neoversa quella che vi ho fatto vedere ieri ma ragazzi se guardiamo questo è uno spezzone del video di Ali A il primo al mondo ad avere già disponibile in game la skin quando Ali va a riscattare nella sua playstation il codice che gli è stato dato guardate là in alto l'anteprima ve la faccio vedere nell'unica immagine più grande che abbiamo ragazzi è un nuovo bundle che non esiste ancora su fortnite come vedete una nuova versione della skin operazione segreta già ridisegnata con la skin wonder quella per gli honor 20 e ancora probabilmente disponibile in un bundle futuro della season 10 molto probabilmente per i possessori di playstation in realtà quando poi Ali va ad inserire il codice in game gli danno la skin neoversa quindi ragazzi davvero tantissima roba anche per questo bundle non ho tempo di farvi vedere il tfew trova lama ve lo farò vedere domani io vi ringrazio tantissimo ragazzi per aver guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live alle 8 ciao 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 ciao